In un contesto come questo del ventesimo congresso dell'Afare, dove si parla specificatamente di approvvigionamenti e di appalti, è stata invitata anche Cittadinanza Attiva, perché abbiamo scoperto proprio in questa sede che Cittadinanza Attiva ha trovato un'azione, un intervento anche proprio sugli acquisti che possono poi alla fine dover tutelare anche il cittadino. Perché e come? Perché i cittadini si interessano agli acquisti in sanità è evidente, perché quando il sistema sanitario pubblico acquista dei presidi per malati cronici pensiamo a delle sacche per le stomie di un malato oncologico, pensiamo agli aghi per i diabetici, per fare due esempi semplici, hanno un impatto sulla vita delle persone. Ecco, Cittadinanza Attiva opera per dare voce a chi non ce l'ha, per chi è debole per poterlo fare, in questo caso pazienti e comunità che hanno bisogno di salute. Per questo abbiamo lavorato con le regioni, abbiamo scritto una raccomandazione sugli acquisti, l'abbiamo chiamata La gara che vorrei, qual è la gara che vorrei? Dieci regole che andrebbero seguite per rendere gli acquisti più vicini ai bisogni dei cittadini, che sono i veri beneficiari di tutti gli acquisti che facciamo.